...della difesa, ovviamente in mezzo anche Pogba, a parte Tevez con il suo destro, Bardi a voto! E' il pallone che termina dentro, Casares! E' il primo gol del campionato! Lo firma Martin Casares! 1-0 per la Juve a questo minuto! Si era destinata ad uscire la palla, perché davvero era il calcio d'angolo tirato sul secondo palo. Difensore o Bardi, insomma, però qualcuno la tocca perché da lì Tevez non poteva far gol.